Musica Regione Campania il 9 luglio ha convocato il primo consiglio regionale dalla provincia Chiesta la proroga dei termini per l'adozione dei PUC Teggiano la viopista protagonista delle telecamere Rai Il Codacons spiega le ragioni del reportage Sala Consilina questione mensa all'associazione Nostri Figli Chiesto un tavolo tecnico ma nessuna risposta dal comune Sala Consilina successo per l'English Camp organizzato dal BNB Dolce Vita e dall'Acle Bambini e ragazzi entusiasti dell'iniziativa Gran Fondo Tanagro stamane la presentazione della seconda edizione Buonasera e bentrovati con l'appuntamento con l'informazione di Union News In apertura parliamo di politica e in particolare ci occupiamo della regione Campania A due giorni dalla sentenza del Tribunale di Napoli non si placano le polemiche sulla vicenda Intanto è stato convocato per giovedì prossimo 9 luglio il primo Consiglio regionale con all'ordine del giorno La presa d'atto della proclamazione degli eletti, l'elezione del Presidente del Consiglio regionale E dei componenti dell'ufficio di Presidenza L'esposizione inoltre del programma di governo da parte del Presidente della Giunta con la relativa discussione Dopo che il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso d'urgenza presentato dai legali di Vincenzo De Luca Eletto governatore della Campania alle elezioni dello scorso 31 maggio E sospeso per effetto della legge Severino E in attesa della pronuncia in merito fissata per il prossimo 17 luglio E' stato convocato per giovedì 9 il primo Consiglio regionale della Campania all'indomani della consultazione elettorale De Luca grazie alla sentenza in suo favore potrà sedere in Consiglio All'ordine del giorno del primo appuntamento ufficiale a Palazzo Santa Lucia La presa d'atto della proclamazione degli eletti L'elezione del Presidente del Consiglio regionale dei componenti dell'ufficio di Presidenza L'esposizione del programma di governo da parte del Presidente dell'Aggiunta con relativa discussione Vincenzo De Luca ha detto Dopo questo Consiglio saremo pienamente operativi e faremo atti operativi Da lunedì daremo già i primi orientamenti Rigore, trasparenza e sobrietà Questa sarà la nostra Campania Il neoeletto governatore sulla sentenza del Tribunale di Napoli aggiunge La sentenza ci consente di uscire da questi giorni di incertezza Ora governiamo e finalmente si acquisisce il risultato fondamentale Il rispetto per i cittadini che votano Intanto dalle opposizioni le polemiche continuano Il Movimento 5 Stelle continua a chiedere il ritorno alle urne Quella su De Luca è solo la prima sentenza Avremo colpi di scena De Luca liberi le istituzioni regionali e se ne torni a casa Tra le fila di Forza Italia Posizioni ancora più nette A partire dal portavoce e dalla Camera Dei deputati Mara Carfagna Che ha scritto Se al posto dell'ex sindaco di Salerno ci fosse stato un esponente del centro-destra La decisione sarebbe stata la stessa E sarebbe arrivata con la medesima velocità In un paese che vuole essere considerato civile In uno stato di diritto Tali domande non dovrebbero neanche porcere Continua ma purtroppo siamo abituati a vedere trattamenti diversi A seconda delle appartenenze politiche Mi consola solamente sapere che almeno i campani Non vivranno più nell'incertezza riguardo al loro futuro E passiamo ora invece all'ente provinciale Perché nel corso dell'assemblea di giovedì La provincia di Salerno ha deciso di inoltrare alla regione Campania Una richiesta urgente di proroga di 18 mesi nella scadenza Entro i quali i comuni dovranno dotarsi dei rispettivi PUC La cui adozione scade per 148 dei 158 comuni della provincia Nella giornata di oggi Giovedì si svolta presso la sede della provincia di Salerno A Palazzo Sant'Agostino L'assemblea aperta dell'amministrazione provinciale Con i sindaci e rappresentanti dei comuni Oggetto dell'incontro la mancata adozione dei PUC Alla scadenza del 4 luglio E dunque la paventata scadenza dei piani regolatore generale Per 148 dei 158 comuni della provincia di Salerno I rappresentanti dei molti comuni presenti Con il consigliere delegato alla programmazione Mimmo Volpe Hanno analizzato tutta la problematica connessa Che la stessa provincia ha posto all'attenzione di tutti Con forza e con rapidità di tempi La discussione si è subito orientata Con adesione unanime verso la richiesta alla provincia Di farsi interprete perso la regione Campania Della difficile situazione venutasi a creare Ed inoltrare al governatore Vincenzo De Luca Una richiesta urgente di prologa di 18 mesi Della scadenza entro la quale i comuni dovranno dotarsi Dei rispettivi PUC La richiesta è motivata altresì dalla pendenza della norma Approvata dall'Aggiunta Caldoro Davanti all'Alta Corte Ovvero l'articolo 1,3 del Regolamento per la Gestione del Territorio Atteso che da più parti sono stati avanzati dubbi Sul profilo di costituzionalità Al tavolo è stata anche discussa L'ipotesi di sospendere l'esecutività Del PTCP della provincia di Salerno Che in questa situazione di incertezza Rischia di generare ulteriori problemi ai comuni della provincia Soprattutto provocando il blocco delle attività concessoria E passiamo ora alla cronaca Nel primo pomeriggio di oggi ha preso fuoco un fienile a Padula Scalo La struttura è ubicata lungo la SS19 Nei pressi dell'uscita autostradale Padula Buonabitacolo Tempestivo l'intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina Questo pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina Al comando del capo squadra esperto Luigi Morello Sono stati chiamati ad intervenire per spegnere un incendio Che in pochissimo tempo ha distrutto un fienile a Padula Nel primo pomeriggio di oggi un piccolo fienile con la struttura in mattoni e legno Ha preso fuoco improvvisamente Sarà stato probabilmente anche il leggero venticello D'aver alimentato e fatto espandere velocemente le fiamme Che hanno provocato la distruzione totale del fienile Nonostante il rapidissimo intervento dei caschi rossi All'interno era custodito anche un carrello che è stato posto in salvo Purtroppo il tetto composto da travi in legno su cui erano appoggiate le tegole È invece andato completamente distrutto E anche l'intervento dei vigili del fuoco è stato decisamente complicato Con pezzi di tegole e pezzi di legno Che continuavano a crollare durante le operazioni di spegnimento I caschi rossi sono riusciti comunque a domare le fiamme Ma la loro attività è dovuta proseguire per diverso tempo Nel fienile infatti vi era ammassato un discreto quantitativo di paglia Da cui quasi certamente divampato l'incendio E in condizioni non sempre sicure È stato necessario continuare nelle attività per mettere in sicurezza l'intera zona Vista anche l'ubicazione del fienile o ciò che resta della struttura Che si trova al ridosso della SS19 A poca distanza dall'uscita autostradale Padula Bonabitacolo Arteria particolarmente frequentata in tutte le ore del giorno Inoltre nelle vicinanze vi erano diverse abitazioni Ed era circondato da terreni Che in alcuni punti faceva intravedere anche erba decisamente secca E facilmente infiammabile Aggiungere sul posto anche i volontari della protezione civile Vallo di Diano Che hanno assistito e supportato i caschi rossi nelle operazioni di spegnimento Il tempestivo intervento degli uomini del caposquadra Morello Ha permesso di ridurre notevolmente le conseguenze che potevano derivarne La struttura è comunque andata distrutta ed è resta inutilizzabile Non è facile comprendere la causa esatta dell'incendio Doppio incidente stradale ieri pomeriggio ad Atena Lucana e a Silla di Sassano Due motociclisti hanno avuto la peggio in uno scontro con un camion e un'autovettura I due però trasportati presso le strutture ospedaliere non sono in pericolo di vita Due motociclisti feriti in altrettanti incidenti a distanza di poche ore uno dall'altro Nella prima serata di ieri intorno alle ore 19 a Silla di Sassano Un ragazzo di 31 anni di Teggiano si è imbattuto nell'autovettura guidata da una giovane Mentre la stessa si stava immettendo nel piazzale di un negozio in località di Silla di Sassano Sul posto i militari del nucleo operativo e radiomobile di Sala Consilina per i rilievi del caso e i soccorsi dei sanitari Che dopo le prime cure hanno provveduto a trasportare il 31enne presso l'ospedale Luigi Curto Il ragazzo subito dopo l'incidente è rimasto cosciente ed ha parlato con i sanitari nel corso delle cure Le sue condizioni non sono gravi ed è rimasto ricoverato in ospedale in via precauzionale Ma le sue condizioni non destano preoccupazione L'episodio di Silla di Sassano ha seguito di poche ore un altro incidente che si è verificato sempre ieri nel primo pomeriggio Intorno alle ore 14 ad Atena Lucana Scalo nei pressi del caffè Victor con dinamica pressoché simile L'incidente ha visto coinvolti una moto guidata da un 34enne di Sant'Arsenio che viaggiava in direzione Sala Consilina Ed un furgone che procedeva in senso opposto che si stava accingendo a svoltare sulla sinistra Per immettersi in una stradina laterale della SS19 delle Calabre Sul posto è immediato l'intervento dei carabinieri della stazione di Sala Consilina e i sanitari del 118 Da una prima e sommaria ricostruzione sembra che il motociclista nel procedere lungo l'arteria Sia andato ad impattare contro il furgone che in quel momento stava svoltando Il 34enne alla guida della moto avrebbe tentato di frenare cadendo rovinosamente E andando a bloccarsi sotto il furgone riportando gravi ferite Dopo un primo intervento medico sul posto e il conseguente trasporto al vicino ospedale di Polla Per la gravità dei traumi riportati nell'incidente per il ragazzo si è reso necessario il trasferimento Presso l'ospedale San Carlo di Potenza dove al momento ricoverato in prognosi riservata Ma in condizioni stazionarie I sanitari infatti restano comunque ottimisti sulle sue condizioni Al momento dei primi soccorsi il ragazzo era comunque cosciente I militari dell'arma al comando del luogotenente Cimino dopo aver effettuato i rilievi Continuano le indagini per cercare di risalire all'esatta dinamica di quanto accaduto Ed accertare eventuali responsabilità Ancora cronaca la compagnia carabinieri di Sapri al comando del capitano Emanuele Tamorri Prosegue nelle sue attività dedicate al contrasto e alla repressione del reato di contraffazione commerciale Nell'ambito di appositi servizi posti in essere durante il mercato settimanale a Sapri I carabinieri della locale compagnia, nello specifico diversi militari disseminati tra le bancarelle Hanno fermato due persone provenienti dal casertano intende a vendere borse con marchi contraffatti Per loro è scattata la denuncia ed il sequestro di una cinquantina di borse delle maggiori case di moda Tra cui anche le aluiviton Nel medesimo servizio sono stati bloccati ed identificati numerosi individui provenienti dal napoletano Nell'atto di vendere centinaia di paia di calze poi sequestrate amministrativamente elevate contravvenzioni per 20.000 euro E cambiamo ora argomento L'aviopista di Teggiano torna protagonista e questa volta lo fa attraverso le telecamere della RAI Il giornalista Beniamino Daniele di Agora realizza un reportage sull'opera per far luce sulla necessità o meno di sostenere la spesa per la sua realizzazione Sul servizio è intervenuto e soprattutto sull'utilità della struttura è intervenuto il CODA con Sovallo di Diano Lo scorso primo luglio è stato trasmesso un reportage effettuato dal giornalista RAI Beniamino Daniele sull'aviopista di Teggiano Un'opera su cui aveva particolarmente puntato la precedente amministrazione tegianese guidata da Michele Di Candia Con il progetto caratterizzato da un numero infinito di ricorsi e contro ricorsi con blocco dei lavori continuo Una lunga vicenda su cui si è spesso dibattuto e per la cui realizzazione nei mesi scorsi il governo aveva riconosciuto al comune un ulteriore finanziamento di quasi 2 milioni di euro L'aviosuperficie di Teggiano era considerata dall'aggiunta di Candia già nel 2011 un progetto di interesse territoriale su cui l'intero territorio doveva puntare Visto l'uso a cui era destinato come spiegato da una delle tante delibere della passata amministrazione Delibera di Giunta numero 52 del 12-4-2011 in cui si legge L'aviosuperficie di Teggiano va finalizzato anche in relazione ai servizi sociosanitari Inoltre è opportuno prevedere all'etere della stessa aviopista un'area funzionale di interporto per la logistica delle merci Questo quanto riportato nella delibera firma dell'ex sindaco di Candia Ora che l'amministrazione comunale attuale guidata da Rocco Cimino è riuscita ad ottenere un finanziamento di quasi 2 milioni di euro dal governo Per non lasciare tale opera incompiuta e quindi fare dell'aviopista l'ennesima cattedrale nel deserto del Vallo di Diano Si registrano voci contrarie all'opera che viene ritenuta a distanza di molti anni dalla progettazione Se ne parla già nei primi anni del 2000 un'opera inutile Il report di Beniamino Daniele trasmesso dalla RAI parla infatti di uno spreco di denaro Lasciando trapelare un certo disinteresse da parte della popolazione Va evidenziato per chi non avesse avuto modo di vedere il servizio della RAI Che il giornalista ha intervistato tra i cittadini alcuni anziani Ma al di là del servizio in sé è intervenuto in merito anche il responsabile Coda Cons Vallo di Diano Roberto De Luca Che spiega le motivazioni per il quale tale opera è considerabile un inutile spreco di denaro Ricordando che il Vallo di Diano per migliorare l'efficienza del trasporto Ha bisogno della riapertura della tratta ferrata E ascoltiamo ora l'intervento di Roberto De Luca responsabile Coda Cons Vallo di Diano Io al di là delle polemiche che potrebbe suscitare questo servizio effettuato da un giornalista di Agorà di RAI3 Io vorrei porre l'accento sulla destinazione d'uso del territorio In effetti nel 2003 sono stati spesi dei soldi pubblici per poter chiedere un parere a degli esperti Su quello che si poteva fare nel territorio del Vallo di Diano Che si poteva e non si poteva fare Cioè nel senso che un pezzo di esso doveva essere preservato Per testimoniare diciamo la salubrità del posto Per tramandare alle future generazioni Integro un pezzo del nostro micro ambiente Allora quello che non si comprende E' perché si vuole perseguire su una strada del tutto apposta A quella del... Faccio solamente un esempio che riguarda proprio Deggiano Nella carta di destinazione d'uso del territorio E' previsto l'areale della Cicogna C'è tutta una vasta zona a contorno del nido della Cicogna Eppure dal 2003 in poi Non si è perso tempo per costruire una zona industriale Proprio nell'areale della Cicogna Allora molto probabilmente questi esseri sono molto più intelligenti dell'uomo E sanno che quelle... Forse no, forse no Ma sanno che quelle attività non sono a detrimento della loro permanenza E pertanto ritornano anno dopo l'anno Però quello che a noi colpisce E' il fatto di aver speso dei soldi per le consulenze E poi disattendere in modo sistematico Quelle stesse indicazioni che vengono dagli esperti Allora a questo punto ci chiediamo se effettivamente Quella aviosuperficie sia necessaria allo sviluppo del territorio Oppure se ci sono altre strade da percorrere Io penso ad esempio, naturalmente, alla strada ferrata E andiamo ora a Sala Consilina Dove continua la battaglia dell'Associazione I Nostri Figli Che sulla vicenda del servizio mensa non garantito dal Comune Fino al 31 luglio come in passato Ma arrestatosi quest'anno al 30 giugno Ha chiesto nei giorni scorsi un tavolo tecnico con il Comune Per cercare di trovare una soluzione al problema Che crea non pochi disagi alle famiglie e alle mamme lavoratrici Oltre al danno anche la beffa Il blocchetto utilizzato per il servizio mensa del di luglio E' stato regolarmente venduto dall'ente Ai nostri microfoni il vicepresidente dell'Associazione I Nostri Figli Loredana Mariniello Ascoltiamola Noi come associazione abbiamo già richiesto precedentemente A quello che è successo il 30 giugno Ovvero la sospensione del servizio mensa senza nessun preavviso Un tavolo tecnico all'amministrazione Per discutere proprio tutti i disagi che si sono evoluti Durante quest'anno per quanto riguarda il problema mensa Non solo all'asilo nido ma anche alla scuola materna Ad oggi non abbiamo ancora avuto nessuna risposta Da parte dell'amministrazione Ma si è soltanto peggiorato il problema del servizio mensa Perché 50 famiglie dal 1 luglio Nonostante abbiano acquistato il blocchetto della mensa Abbiano pagato la retta si sono ritrovati senza un servizio Questo non solo ha creato disagi a chi lavora Soprattutto alle mamme che lavorano Ma hanno creato un problema Per quello che riguarda la sospensione del servizio mensa E' una situazione economica che è andata a peggiorare Perché molte mamme si sono dovute rivolgere A degli esilini di privati E quindi con un aggravio delle spese economiche Noi come associazione abbiamo proposto Che non solo che qualsiasi soluzione loro ci rispondano Noi ci rendiamo disponibili gratuitamente A forme di volontariato per venire incontro Alla problematica della mensa Ma abbiamo dato anche un'altra proposta Cioè dare in appalto al mese di luglio Quello che rimane A un ristorante o chi lo possa fare I 50 pasti da preparare per l'asilo nido Se nonostante il sindaco durante la conferenza stampa Ha detto che ha chiuso il bilancio con un avanzo positivo Non si possa far fondo a quello che potrebbe essere Una differenza minima economica Noi come associazione ci rendiamo disponibili A mettere noi la differenza Per evitare qualsiasi disagio alle famiglie e ai bambini Perché noi crediamo che i problemi giudiziari Che riguardano gli adulti Non debbano ricadere sui bambini dell'asilo nido Che si trovano passivi A recepire quelle che sono le scelte degli adulti La Confartigianato Vallo di Diano Fa il punto sulla situazione del progetto Garanzia Giovani che l'ha vista in primo piano Grazie ad un protocollo di intesa stipulato con l'ARLAS Nell'azione di sensibilizzazione del programma Su tutto il territorio del Vallo di Diano Del Golfo di Policastro e del Cilento La delegazione territoriale della Confartigianato Vallo di Diano Attraverso un protocollo di intesa con l'ARLAS L'Agenzia Territoriale per il Lavoro Ha avviato un'azione di sensibilizzazione Sullo programma Garanzia Giovani Interessando a tappeto le imprese e gli enti locali Del territorio del Vallo di Diano Golfo di Policastro e Cilento L'azione continua della delegazione Ha permesso di credere in un progetto targato Unione Europea e Regione Campania Per l'inserimento lavorativo dei giovani del territorio Da dicembre si sono presentati decine di progetti di garanzia giovani Sia per enti e sia per imprese Nonché attraverso una convenzione con delle agenzie per il lavoro Sono stati effettuati svariati colloqui a ragazzi del posto Da giugno sono stati avviati i primi ragazzi di garanzia giovani Ospitati negli enti locali Partendo dai comuni di San Rufo, San Pietro Altanagro, Sant'Arsenio Casaletto Spartano, San Giovanni Appiro e Rofrano Numerose imprese grazie all'azione di sensibilizzazione Della confartigianato Vallo di Diano Hanno avviato i tirocini di garanzia giovani Tra giugno e luglio oltre i 100 ragazzi dai 18 ai 29 anni Verranno avviati al programma di garanzia giovani In merito la responsabile dei servizi della confartigianato Vallo di Diano Maria Antonetta Quino ha dichiarato Abbiamo creduto fin dall'inizio in questo nuovo progetto dell'Unione Europea Che permette ad un ragazzo neodiplomato o neolaureato Di fare la sua esperienza lavorativa E nello stesso tempo all'impresa Di valutare una risorsa umana senza costi aggiuntivi È un programma di notevole lungimiranza Che vuole riscattare la politica sociale e del lavoro della Regione Campania Credo che i principi su cui si basa questo progetto Siano fondamentali per l'integrazione sociale e lavorativa Ma auspico che vengano realizzati effettivamente Noi, aggiunge Aquino Come associazione di categoria da oltre due anni Siamo presenti sul territorio E forniamo informazioni sullo scenario delle varie opportunità Che possono agevolare la vita imprenditoriale E dei giovani presenti sul nostro territorio Perché, e conclude il responsabile dei servizi confartigianato Vallo di Diano Anche io, essendo giovane e professionista di questa terra Credo formemente nelle potenzialità Purtroppo ancora inespresse di questo territorio E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria Tra poco con il resto delle nostre notizie Bentornati alla seconda parte del nostro TG Che apriamo con Sala Consilina Dove si è concluso ieri con lo spettacolo di fine corso L'English Camp organizzato dall'Associazione Culturale e Linguistica Educational In collaborazione col B&B Dolce Vita Che dal 22 giugno ha visto bambini e ragazzi Delle scuole primarie e secondarie di primo grado Impegnati in attività ludico, ricreative ed educative Finalizzate all'apprendimento dell'inglese Grande entusiasmo tra i partecipanti Presso pronti a ripetere l'esperienza Divertimento, grandi risate e voglia matta di parlare e cantare in inglese Si può sintetizzare in queste parole Il bilancio dell'English Camp organizzato dal B&B Dolce Vita Di Trinità di Sala Consilina E dall'Associazione Culturale e Linguistica Educational Che dal 22 giugno al 3 luglio Ha coinvolto bambini e ragazzi del Vallo di Diano In una serie di attività ludico, ricreative ed educative Tutte rigorosamente svolte in lingua inglese Grande entusiasmo si è respirato nella serata conclusiva di ieri Con i tutor di madrelingua inglese Gli helpers e i partecipanti valdianesi Che hanno continuato a ridere, scherzare E soprattutto a cantare Utilizzando prevalentemente la lingua inglese Risultato quindi raggiunto abbondantemente Lo scopo dell'iniziativa infatti E su cui da diversi anni si concentra l'ACLE È proprio quello di incentivare i bambini e i ragazzi Verso l'apprendimento della lingua universale Allontanandoli da quel senso di obbligo Che può invece venire fuori durante le normali lezioni scolastiche Far quindi in modo che vi sia la passione La voglia personale di imparare E soprattutto di esprimersi in un'altra lingua Entusiasti i bambini e i ragazzi Circa 40 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado Che hanno partecipato al camp Ed altrettanto entusiasti gli helpers Studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Vallo di Diano Che in questi giorni hanno avuto il compito Di collaborare con i tutors di madrelingua E assistere nel contempo i partecipanti al camp Allegria e grande professionalità Poi è stata dimostrata dai tutors laureati e laureandi Provenienti dai paesi anglofoni Una full immersion che ha consentito di entrare in contatto E di spingere i ragazzini a parlare inglese Mentre i tutor che con sorrisi e dolcezza Spingevano verso la giusta pronuncia delle parole Durante l'English Camp inoltre È stato possibile confrontarsi sulle differenze O anche sulle abitudini comuni Favorendo così la globalizzazione Soddisfatto di questa prima esperienza nel Vallo di Diano Il presidente dell'Associazione Acle Raffaele Nasti Che si è detto pronto e disponibile A riproporre il camp anche il prossimo anno Vista anche l'ottima organizzazione Del Bed and Breakfast Dolce Vita Che ha consentito di raggiungere l'obiettivo desiderato Alla serata di chiusura Era presente anche l'assessore alla cultura Del comune di Sala Consilina Gelsomina Lombardi Che è rimasta particolarmente colpita Dalle esperienze e dal progetto Dichiarandosi disponibile a contribuire Con l'amministrazione comunale salese Al progetto dell'Associazione Acle E del Bed and Breakfast Dolce Vita Complimentandosi con loro Per la volontà di portare l'iniziativa Anche nel Vallo di Diano E in merito ascoltiamo ora le interviste Realizzate al presidente dell'Acle Raffaele Nasti E ai ragazzi valdianesi Che in questi giorni sono stati impegnati Come helpers del progetto Stiamo parlando di Maria Antonietta Padovani Giovanni Luzzi Luigi Delia E Laura Dalvano La zona è bellissima E quindi arrivare nel Vallo di Diano È stata una cosa molto gradevole Anche per gli stessi tutor Che sono rimasti entusiasti Della gente Dei ragazzi Poi io ho visto anche lo show finale Ed è stata una cosa bellissima Una professionalità eccezionale Noi questa cosa la facciamo da tanti anni E non intendiamo dire Insegniamo l'inglese in due settimane Noi vogliamo dare l'emozione ai ragazzi Di imparare una lingua in allegria Giochi, canzoni, animazione Tutto ciò che è allegria in lingua inglese E quando una cosa la fai con allegria Si sviluppa un'emozione particolare Che poi per la vita intera ti serve L'inglese non è più da considerarsi una materia scolastica Ma un'abilità per la vita Senza l'inglese non si va da nessuna parte E' come la patente di guida Se non prendi la patente Qualcuno ti deve portare in giro Senza l'inglese qualcuno ti deve fare da interprete Poi per il lavoro Per le comunicazioni internazionali Per qualsiasi cosa abbiamo bisogno dell'inglese Ebbene questo modo di insegnarlo Di farlo apprendere ai ragazzi da bambini Permette loro di affrontare questa esperienza di vita per sempre E quando una materia scolastica la si apprende in allegria Quando chi ti insegna è una persona positiva Tu in modo positivo te lo porti per tutta la vita Questa è la cosa in cui noi crediamo molto Sì è la prima volta Diciamo è stata un'esperienza bellissima Formativa e soprattutto Stare a contatto con i bambini Anche con ragazzi della nostra età Coetanei, americani Diciamo ci ha fatto crescere Ci ha fatto anche conoscere magari abitudini Che noi non conoscevamo Sicuramente che se l'abbiamo fatto noi L'inglese lo possono parlare tutti Perché magari siamo partiti da zero Quasi un po' tutti E insomma è stata un'esperienza comunque formativa Perché i tutor non sapevano parlare italiano Quindi abbiamo dovuto provare Metterci alla prova tutto il giorno per dieci ore E in più cercare di trasmettere ai bambini L'amore per una lingua diversa Una lingua nuova E quindi imparare Impararli anche che si può giocare Con qualcosa che magari sono abituati a vederla Soltanno come una materia di studio Scolastica e pesante forse Volete rifarlo? Sì sicuramente Se ci sarà l'opportunità perché no? Beh sicuramente se ci sarà l'occasione Di poterci spostare Benvenga però Ci accontentiamo di sala o del ballo in generale Beh sì è stato interessante il modo in cui hanno proposto l'inglese Soprattutto attraverso i giochi e le canzoncine Che venivano cantate al mattino Credo che per i bambini sia fondamentale Imparare l'inglese in una maniera Non solo pratica ma anche divertente In modo che possa rimanere loro qualcosa Un sentimento legato alle parole E a ciò che imparano Personalmente io vorrei compiere molti viaggi nella mia vita Sogno appunto una vita di viaggi Quindi ritengo l'inglese come anche le altre lingue fondamentali It's been a pleasure Passiamo ora allo sport È stata presentata questa mattina Presso la concessionaria Autosala La seconda edizione della Gran Fondo Tanagro Primo Memorial Pasquale a Maccapane E Franca Priore Manifestazione ciclistica Che si terrà domenica 12 luglio A San Pietro al Tanagro È valida quale settima prova Del circuito Scudetto Campania 2015 E prova a campionato italiano Interforze Nel corso della conferenza stampa Sono intervenuti Pietro Costa Presidente dell'associazione organizzatrice Ciclo Team Tanagro Che ha presentato il percorso di 117 chilometri E le manifestazioni collegate all'evento Poi sono intervenuti anche domenico 40 Sindaco del comune di San Pietro al Tanagro L'assessore del comune di San Pietro al Tanagro Antonio Pagliarulo La dottoressa Maria Antonietta Aquino Responsabile di Confartigianato Vallo di Diano A margine della conferenza stampa Abbiamo intervistato il presidente di Ciclo Team Tanagro Pietro Costa Che ci ha raccontato della manifestazione Dato il successo dell'anno scorso Abbiamo voluto intrattenere un pochino meglio Non soltanto i ciclisti Ma anche i familiari accompagnatori E così abbiamo organizzato per il sabato prossimo Prima della gara Visite guidate gratuitamente Sia alla Certosa di Padula Che alle Grotte di Pertosa In modo che chi viene prima Che per notte era qui Avrà questa accoglienza da parte nostra Poi la domenica mattina Dopo che sarà partita la Gran Fondo Ci saranno degli intrattenimenti Sul posto Il Parco dei Mulini a San Pietro Dove ci sarà un intrattenimento ciclistico Per i bambini Dopodiché quando ci sarà l'arrivo Dal luna in poi del pomeriggio Ci sarà il pasta party Che la Proloco Ha organizzato e che servirà Delle cose che insomma saranno A disposizione di tutti i partecipanti Un'altra cosa Il sabato sera C'è un intrattenimento teatrale C'è un trio di giovani Che si chiama Effetto Smorfia Praticamente riprodurranno Lo spettacolo che faceva una volta Massimo Troisi Enzo De Caro L'Ello Arena L'effetto della Smorfia Che facevano allora Quindi abbiamo pensato Di intrattenere Alla meglio Questi amici che verranno A partecipare a questa Gran Fondo Quindi la Gran Fondo Non è soltanto ciclismo Ma è anche turismo Per il territorio Ed è proprio quello Che noi abbiamo inteso fare Portando un gran numero di ciclisti Nel Vallo di Diano Che ritengo sia Un territorio Che merita di essere visitato Per questi monumenti Ma anche Per la bellezza naturale Infatti noi Il percorso della Gran Fondo Lo abbiamo dislocato Su tutto il Vallo di Diano Ma siamo andati a cercare Una bellissima montagna Che è quella di Mandrano Che una volta scollinata Si va giù Verso la Val d'Agri Si attraversa un piccolo tratto Della Val d'Agri Si scende a Paterno Poi si arriva a Tramuto Da lì Si risale Verso Montesano E si ritorna a San Pietro Per un totale Di 117 chilometri L'anno scorso È stato lo stesso percorso Che è stato giudicato Bellissimo Da chi ha partecipato Io compreso E quindi Visto che è riuscito Così Intendiamo Continuare Su questo Questo percorso Continuiamo con lo sport Occupiamoci ora di calcio Perché l'AIC Associazione Italiana Calciatori Equip Campania Organizza anche per quest'anno I ritiri precampionato Per i giocatori senza contratto Che seguiti da uno staff qualificato Saranno preparati Dal punto di vista fisico In vista della prossima stagione sportiva Le amichevoli saranno vetrine Importanti per questi ragazzi Si parte il 13 luglio Anche quest'anno Si rinnova l'appuntamento Con l'AIC Equip Campania Il progetto patrocinato Dall'Associazione Italiana Calciatori Del responsabile AIC Campania Antonio Trovato La quinta edizione Dei ritiri precampionato Dell'AIC Campania Permetterà agli atleti Senza contratto Di allenarsi quotidianamente Di affrontare amichevoli In modo da farli arrivare Alla top In caso di eventuali chiamate Dalle società E per favorire La vetrina utile Alla loro collocazione Quest'anno Le sedi del ritiro Saranno tre Si parte lunedì 13 luglio Alle 8.30 Nella storica Dimora Equip Del comunale Di Qualiano In provincia di Napoli Lunedì 20 Poi Alle ore 16 Prenderà il via Il ritiro Al campo San Rocco Di Napoli Zona Capodimonte In collaborazione Con la scuola calcio Salvatore Sibilli Infine Martedì 21 Sempre alle 16 Con la collaborazione Di Gaetano Iossa Ex salernitana Ci sarà il raduno Al campo comunale Di Baronissi Nuovo punto Di riferimento Per tutti i calciatori Della provincia Di Salerno Lo staff Dell'Associazione Italiana Calciatori Campania Sarà reso noto Nei prossimi giorni Si tratta Di un percorso Molto importante Per i calciatori Senza contratto Che seguito Da uno staff Qualificato Si prepareranno In vista Della stagione 2015-2016 Inoltre Grazie alle diverse Amichevoli Che saranno organizzate I ragazzi Avranno modo Anche di farsi notare Dalle squadre di calcio E riuscire così Ad ottenere un ingaggio Per la prossima stagione Con lo sport Termina il nostro TG Io vi ringrazio Per averci seguito Vi auguro Un buon proseguimento Di serata E una buona domenica TG TG